Essere di qualcuno, non essere di qualcuno. Meglio non essere, in questo caso. Tarete arghi! Beh dai, primo covi, mi voglio vedere. Francesca ha suggerito il pota verb di questo video, lo ha fatto attraverso Facebook. Grazie Francesca, sei come Francesca, iscriviti, commenta, suggerisci. Te, ma lo sai chiedere un dato attraverso? Oddio, si è fatto male? Beh, che c'è? Andare attraverso non significa avere un incidente, significa tradire. Tradire? E quindi la domanda giusta non è, si è fatto male, ma con chi? Giusto? Alla fine la Daria è andata attraverso. Davvero? E con chi? Con me. Fai attenzione a non andare attraverso, o perlomeno a non farti scoprire, altrimenti sei di qualche d'uno. Grazie Francesca per il suggerimento e tu, prima di andare attraverso con qualche d'uno, vatti a vedere gli altri video sui pota verbs e suggeriscine altri per le prossime puntate. E' un piacere ancora. 1,50 buona. Cazzo.